Ho appena pubblicato un grafico sul canale Telegram ed è il grafico della correlazione tra gli andamenti di Bitcoin, l'emissione di liquidità da parte della Federal Reserve, il balance sheet della Federal Reserve è tragicomico o a dir comico, cioè come questi due valori, quindi la valorizzazione di Bitcoin e l'andamento del prezzo siano strettamente correlati ovviamente all'emissione di liquidità. Un po' è naturale perché il prezzo di Bitcoin noi lo valutiamo in dollaro, quindi se si svaluta il dollaro, il dollaro è al denominatore, in questo caso ovviamente Bitcoin vale di più, quindi il rapporto vale di più Bitcoin-Dollaro, però da un altro punto di vista non c'è una correlazione in termini di valore assoluto, quindi non è perché il dollaro si è svalutato che il prezzo di Bitcoin sale così tanto, ma è proprio per l'emissione di liquidità della Fed. Interessantissimo andare a vedere questa cosa, soprattutto puoi porci un po' di domande, l'ho appena pubblicato sul canale Telegram, a proposito ragazzi, il canale Telegram in descrizione, assolutamente gratuito, pubblichiamo delle news, pubblichiamo i miei video e anche queste chicche, anche qualche analisi di trading, qualche chicca di trading che si può verificare, lo trovate in descrizione, completamente gratuito. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a vedere oggi quella che è la situazione di Bitcoin da un punto di vista di analisi ciclica di breve periodo, quindi il ciclo mensile, quello che sta facendo in questa fase, ma Ethereum tra le altre cose fa nuovi massimi di periodo, quindi nuovi massimi di periodo e soprattutto tenta il break del suo livello di resistenza principale, quello che avevamo indicato nelle settimane scorse, quindi teoricamente se ci riesce oggi barra domani, deve confermare in close, potrebbe essere indirizzato addirittura ai 2000 dollari. Bitcoin resterà a guardare perché Bitcoin è ancora sotto invece il suo livello di resistenza, un grafico ci dice che non sarà così, quindi Bitcoin non resterà a guardare, ma poi abbiamo anche un altro grafico ragazzi che ci indica una possibilità, c'è la possibilità che ancora il mercato cripto in questo mese di aprile fino a maggio, dove ci siamo dati un po' una scadenza ciclica strarilevante, di cui poi dovremmo andare a parlare per i sei mesi successivi dell'anno 2023, ancora fino ad aprile e maggio potrebbe fare un altro piccolo boom, piccolo piccolo boom. Va bene, allora andiamo subito a vedere queste cose partendo dal grafico della Fed, allora ragazzi, balance sheet della Fed collegato a Bitcoin, guardate un po' la, praticamente con reazione uno a uno, questa è l'emissione di liquidità della Fed post Covid, qui è la reazione, la reaction di Bitcoin, poi c'è stata tutta questa fase di costante emissione di liquidità dal 2020 al 2022, il massimo è avvenuto per quanto riguarda la Fed in questa zona qui, che è esattamente, vedete, un flesso, ed è in zona marzo 2022, ma Bitcoin reagisce con un po' di anticipo a questa fase di up, reagisce in pratica con circa 4 mesi di anticipo, interessante andare a guardare questa cosa, perché? Perché anche sul minimo di novembre Bitcoin ha reagito con circa 4 mesi di anticipo, guardate, sono 120 giorni circa, la stessa più o meno distanza che intercorre tra il massimo storico di Bitcoin e il massimo di questa emissione di liquidità della Fed, vedete, questo flesso, che poi ha iniziato la fase discendente. In pratica 4 mesi di anticipo relative a quelle che sono le aspettative da parte del mercato relativamente al tasso di interesse alle emissioni di liquidità. Questa correlazione non è casuale, non è randomica, perché è ovviamente anche logica. Tanto tempo passi diceva che i mercati, soprattutto le stocks e i mercati hold, reagissero a quelle che erano le emissioni di liquidità o le politiche della Federal Reserve, quindi relative ai tassi di interesse, con 6 mesi di anticipo. Bitcoin anticipa di un paio di mesi, ma anche gli altri mercati, perché siamo semplicemente più veloci. Ma come ho un po' fatto l'ironico sul mio messaggio di Telegram di oggi, nel canale di Telegram di oggi, qual è la vera domanda da farsi, ragazzi? Cioè, la vera domanda da farsi era, ma chi sapeva che 4 mesi prima della emissione nuova di liquidità da parte della Fed, questa zona qui, chi sapeva a novembre che la Fed sarebbe dovuta intervenire per immettere liquidità, perché le banche sarebbero andate in crash, perché lo sapevano prima, e guardate un po' anche, è legata appunto alla Silicon Valley Bank, che è fortemente, diciamo, collegata da un punto di vista anche tecnologico a quelli che sono i mercati cripto. Interessante andare a fare tutte queste magagni, mi metto la maschera la prossima volta per fare l'uomo con la maschera, e dirvi, non è una coincidenza. Va bene, ragazzi, allora, asimmetrie informative, questa è la vera risposta, chi di voi ama la macroeconomia o ha studiato macroeconomia può andare a ricordarsi queste cose, il problema è che le informazioni non sono uguali per tutti, non circolano nello stesso modo, qualcuno sapeva certamente prima, qualcuno ha comprato, quindi ai minimi. Lo snodo di Bitcoin è avvenuto per questa roba qui, ragazzi, la questione per il futuro. Questa immissione di liquidità continuerà da parte della Fed, si fermerà, tutto collega gli andamenti di Bitcoin, probabilmente per i prossimi mesi. Va bene, allora, detto questo, andremo ad aggiornare questo grafico proprio interessantissimo, passiamo ora a vedere invece quella che è la situazione ciclica di Bitcoin, andando a ragionare sul ciclo mensile. Però, anche voi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo video relativamente ai rapporti tra liquidità e Fed, che sono coerenti con quello che è la struttura dell'economia, quindi rapporti tra rialzo dei tassi e emissione di liquidità. Ma davvero, quindi, i valori degli asset sono solo strettamente correlati alla liquidità, quindi alle politiche monetarie, e quindi è tutto un gioco, un castello di carta? Fatemi sapere cosa ne pensate, perché non è solo relativo alle crypto, ricordate, è anche relativo alle stocks e a quelli che sono i mercati old, soprattutto i mercati old, perché le crypto sono molto piccole da quel punto di vista. Allora, andiamo a vedere invece la questione sul ciclo semestrale di Bitcoin che si sta andando a sviluppare, anche se io ho una mezza idea, ve lo dico in maniera molto chiara, che questa struttura non sia un semestrale a due tempi, ma ciclicamente parlando possa fare il cosiddetto semestrale a tre tempi, una cosa del genere, poi lo andremo a spulciare man mano che andrà avanti, però nel breve periodo abbiamo teoricamente una estrema vicinanza ad una data che è importante, cioè la decade in 10 di aprile. 10 di aprile, 9 di aprile, dove, oltre ad essere Pasqua ragazzi, è anche una data importante perché teoricamente chiude la tempistica del ciclo mensile di Bitcoin, ma Bitcoin sembra non volerne sapere in questa fase di andare down. Ora, il ciclo mensile può anche svilupparsi un po' di più, cioè può anche effettivamente andare avanti di fino a 34-38 giorni senza alcun problema. Dopo un po' entriamo in cluster statistici di serie storiche legate alla durata dei cicli mensili, che sono poco significative, tutto è possibile, ovviamente sempre serie storiche sono ragazzi, quindi non c'è un dato certo, però ovviamente la probabilità ci dice che poi dovremmo valutare altre ipotesi. Quale ipotesi potremmo valutare qualora Bitcoin non vada a fare questa chiusura del ciclo mensile? Perché se Bitcoin da qui ragazzi inizia una fase di leggero ribasso, mi chiude intorno alla settimana di Pasquetta, quindi dalla 10 in poi, questo facendo un minimo poi riparte, fa la seconda fase, quindi il nuovo ciclo mensile. Ma qualora non faccia un atteggiamento di questo tipo, quindi non faccia effettivamente una close del mensile, dovremmo valutare la possibilità che questa struttura non abbia il ciclo mensile a 30 giorni, ma sia appunto una struttura di natura ternaria che lega due cicli mensili in questo modo, quindi creando in pratica non un minimo al centro di questa fase, ma un massimo. Tutto questo, queste spiegazioni ragazzi sono molto più logiche, ovviamente se avete seguito il mio webinar, quello della settimana scorsa, relativa al concetto dell'analisi ciclica, come deve essere utilizzata, e soprattutto poi magari ragazzi fareò anche un video proprio su YouTube, bello editato, fatto bene anche per spiegare a tutti come andare a ragionare quando guardate queste informazioni, che secondo me è molto importante, e ovviamente molto di più a chi ha seguito il corso, sta seguendo il corso Basic, dove c'è un modulo dedicato che spiega perfettamente queste cose, vi fa capire le basi dell'analisi ciclica, quindi quello che serve un po' all'80% delle persone. Allora, una cosa del genere cosa ci indica? Che la durata di questa resistenza a 28,529 è praticamente limitata nel tempo, quindi se Bitcoin va a chiudere il mensile tra pochi giorni, poi deve tentare la fase di rialzo del nuovo mensile. Qualora invece Bitcoin non vada a chiudere questo mensile, ma sta facendo un ternario, deve subito andare a fare nuovi massimi, cioè lo farà praticamente già verso la fine della settimana. E questa è una cosa che insomma dobbiamo tenere in considerazione. Insomma, un po' un bias rialzista forse in questa fase, potremmo essere scioccati da alcuni punti di vista, sì vero però ragazzi, ricordatevi il legame con il grafico della liquidità, e adesso molti puntini iniziano ad unirsi, se il grafico della liquidità della Fed non fa bruschi cali, o non sta facendo un'inversione per tornare indietro, è difficile che avremo una fase di forte crash del mercato. Anche una presenza di recessione in termini economici nel mondo finanziario, dalla giugno in poi, per esempio nella seconda fase, sarebbe forse anche vista meglio. Perché ragazzi? Perché la Fed dovrebbe intervenire nuovamente con emissioni di liquidità, o bloccando il rialzo dei tassi, o addirittura facendo scendere il tasso di interesse, quindi aumentando la liquidità, e abbiamo visto di nuovo la relazione. Insomma, sicuramente da qui ai prossimi mesi, Bitcoin potrebbe in effetti poi iniziare la seconda parte del ciclo annuale, andando un po' ad essere riflessivo o più debole verso la fine dell'anno, ma dobbiamo comprendere invece che nell'ottica macroeconomica non ci sono dati in questo momento che portano a una fase di forte struttura ribassista, perché sia liquidità sia che arrivi una recessione non cambiano nulla. C'è solo un cigno nero, secondo me, nelle crypto, ragazzi, ed è la regolamentazione da parte degli Stati Uniti, che è estremamente rigida, estremamente forte sulle crypto, e va fortemente tenuta in considerazione. Ma di questo ne parleremo in un altro video. Andiamo a vedere invece Ethereum, perché Ethereum fa nuovi massimi di periodo, e cioè brecca il suo livello di resistenza, e si avvicina a quello che a questo punto risulta essere un massimo estremamente interessante, quello pre-passaggio al proof of stake, quello di agosto 2022, cioè i 2000 dollari. Allora, l'arrivo ai 2000 dollari è un po' quasi scontato, ragazzi, mancano pochi punti percentuali, circa 3-4 punti, quindi anche un niente, ma teoricamente dovrebbe tranquillamente arrivarci per poi decidere il da farsi qui, quindi facendo il concetto del famoso figura di inversione con il doppio massimo, o eventuale definito BART, però da qui in poi dovremmo poi, dovrà poi tirar su le sue riflessioni anche Ethereum. Intanto, la struttura di Ethereum del ciclo mensile, la vedete qui indicata, anche Ethereum verso la Pasquetta dovrebbe avere la chiusura del ciclo. Quindi, anche in questo caso, ragazzi, come su Ethereum, e magari lo prendiamo in considerazione per capire anche se Bitcoin potrebbe in effetti seguire la view ternaria o binaria, però relativamente ad Ethereum, a volte sono decorrelati da un punto di vista ciclico, non seguono sempre gli stessi cicli, nonostante siano correlati molto da un punto di vista di prezzo, ma non in termini ciclici, non sono sempre correlati in termini ciclici, in questa fase sì, però non è detto che continuerà, perché a volte cambia. Allora, qui vedete un po' la struttura, se fa una cosa del genere potrebbe essere in natura ternaria, se invece fa una struttura binaria potrebbe fare una cosa così, allungando un po' e poi ripartendo magari con un nuovo ciclo di natura mensile. Perciò, anche in questo caso, Ethereum più forte indica che teoricamente potrebbe continuare questa fase almeno fino ai 2.000 dollari e se supererà i 2.000 dollari, a quel punto non c'è nessun ostacolo, fino ai 2.100-2.2002, quindi un altro 8-10%. Poi da lì si va al pullback di questa zona di minimo e quindi si fa una nuova riflessione. Ma c'è un grafico che possiamo vedere che ci dice che anche in base a questo andamento ciclico di Ethereum Bitcoin non starà a guardare. Questo è il grafico del rapporto fra Bitcoin ed Ethereum, anzi fra Ethereum e Bitcoin per essere precisi, che dal punto di vista ciclico sta esattamente disegnando una nuova e ultima fase ciclica di forza di Ethereum contro Bitcoin che però ha i giorni contati. Perché teoricamente questa zona che chiuderebbe poi il famosissimo ormai ciclo quadriennale da 1.400 giorni su Ethereum Bitcoin vedete è l'ultimo balzello teoricamente di questa struttura che dovrebbe fare 1 e poi boom 2 per chiudere tutti i giochi. Attenzione che in questa zona che vi ho disegnato ombreggiata lì ci sarà da fare una serie di giochi anche di criptopicking e quindi anche creazione di portafoglio interessantissimo perché ragazzi perché da lì si cambia la vita poi delle persone se si riesce a creare un ottimo portafoglio diversificato e soprattutto trend following che però riguardi anche altre cripto non solo Bitcoin ovviamente qui parliamo di investimenti non parliamo di filosofia non parliamo di ciò che c'è nelle nostre idee ma investimenti, investimenti è speculazione, è trading ragazzi quindi noi prendiamo il carro prima che partano questo è quello che ci interessa fare poi si esce non si sta in holding a vita e non ci importa di queste cose a parte Bitcoin chi di voi ci crede insomma un po' di più magari come me anche e altri e tantissimi allora questa zona però è interessantissima ma ci dice che Bitcoin teoricamente dovrebbe seguire a momenti perché questo rialzo se questa centratura ciclica è corretta non dovrebbe durare più di tanto cioè il rialzo di Ethereum su Bitcoin dovrebbe fare appunto una zona così e poi ritornare a scendere che significa ritornare a scendere? che Ethereum crolla secondo me è più che Bitcoin sale perché questo è il rapporto tra Ethereum e BTC e noi abbiamo visto che Ethereum ha sfondato il suo livello di resistenza Bitcoin ancora non i 29.000 ma se Bitcoin sfonde i 29 ha una preteria fino a 32,35 e quindi può fare esattamente questo meccanismo e spingere quindi siamo lì no ragazzi quindi questo grafico potrebbe essere anticipatorio se è corretta la centratura ciclica se non è corretta la centratura ciclica poi ovviamente Bitcoin magari non seguirà però se questa centratura è corretta tra un po' di tempo Bitcoin seguirà la fase rialzista per portare poi verso maggio appunto giugno questo trend a chiudere tutta questa fase ciclica fase ciclica che sono sincero mi aspettavo più debole da parte di Ethereum invece Ethereum fortissimo ragazzi in questa fase e anche se non vi sembra ma vi assicuro questa è una fase ciclica di una chiusura di un quadrennale se è così centrato e corretto Ethereum è molto forte per una cosa del genere l'ultima volta ha fatto una catastrofe guardate qui ok detto questo passiamo all'ultimo grafico di oggi un grafico velocissimo che però ci dice anche che le crypto possono avere ancora spazio e quindi va a mettere la ciliegina sulla torta proprio a questi tipi di ragionamenti e cioè il grafico della Total Market Cap che non ha mai superato la sua resistenza di agosto indice del fatto che le crypto si stanno muovendo seguendo una logica di spostamento della liquidità e dell'attenzione sui progetti più rilevanti quelli più importanti quelli forse più sicuri e sta un po' abbandonando quelle che sono invece i progetti probabilmente scam di basso livello anche perché magari lo zampino della regolamentazione fa veramente molta paura perché vi dico questo ragazzi perché il Total Market Cap delle crypto è al di sotto del massimo di agosto mentre sia Ethereum sia Ethereum ancora no diciamo però Bitcoin l'ha superato ma Ethereum comunque è lì vicino ora la Total Market Cap è sicuramente estremamente influenzata da Bitcoin ed Ethereum e anche le top 5 in generale ma è anche zavorrata da tutti gli altri progetti crypto che invece sono fortemente ancora in trend non rialzista e questo ve la dice lunga ragazzi perché i progetti crypto sono tanti quindi questo indicatore ci dice che c'è una sorta di spostamento di attenzione verso i progetti top top 10 almeno e questo è interessante quindi se noi avessimo fatto un buy on Bitcoin saremmo al di sopra di questo livello in questo momento saremmo qui se avessimo fatto un buy su tutte le crypto saremmo invece più bassi quindi molti progetti stanno zavorrando in maniera consistente anche perché alcuni progetti pesano un 1% uno 0,1% anche dell'intera capitalizzazione quindi per zavorrare l'intera capitalizzazione vuol dire che proprio vanno male ragazzi ok questo è molto rilevante allora ma ci dice anche un'altra cosa che c'è spazio di crescita perché questo livello probabilmente la total market cap lo breccherà come ha fatto Ethereum come ha fatto Bitcoin e come sta tentando di fare Ethereum in questi propri giorni se lo brecca e si sposta almeno tra lo 0,23 e lo 0,38 di Fibonacci in questa area e vuol dire che deve ancora fare l'ultimo balzo questo ultimo balzo da dove arriverà fortemente da Ethereum Bitcoin e arriverà anche dalla top 10 ma sarà impulsivo dovuto a Ethereum Bitcoin magari le altre crypto seguiranno senza zavorrare però sono loro i due leader in questo momento anche BNB che possono dare un la a questo atteggiamento perciò anche questo grafico ci dice che nei prossimi giorni forse ancora la fase rialzista potrebbe continuare e quindi ancora forse i massimi non li abbiamo raggiunti è ovvio che da metà aprile in poi come vi sto dicendo già da un po' io inizierò a essere estremamente riflessivo per tanti motivi soprattutto di natura ciclica ma ne parliamo in un altro video ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video